Musica Si tratta di un modello operativo di grande successo che arriva direttamente dall'estero Stiamo parlando della più grande rivoluzione del giardinaggio in Italia Sta per iniziare letteralmente una nuova era 7 marzo La rivoluzione del giardinaggio in Italia L'evento gratuito dove i maggiori esperti del settore del giardinaggio annunceranno l'arrivo di una rivoluzione In diretta troverai collegati Alessandro Di Fonzo Agri-Coach Massimo esperto in Italia sul marketing per giardinieri Giacomo Di Rocco e Diego Colonna Di Click & Garden Architetti paesaggisti Massimi esperti in Italia per quanto riguarda la progettazione online di giardini e terrazzi Il prof Giovanni Tracanzan Massimo esperto in Italia sui tappeti erbosi Luca Stefanetti Esperto in gestione e organizzazione del lavoro di grandi aziende di giardinaggio Nico Benedetto Esperto di online marketing e vendita Nicola Candian Esperto di online marketing e acquisizione clienti online Partecipando alla diretta gratuita scoprirai come far prosperare la tua azienda di giardinaggio grazie a un modello operativo di grande successo che arriva direttamente dall'estero Abbiamo unito le migliorimenti del settore per mettere insieme le informazioni più efficaci e per farti scoprire come il tuo successo sarà il nostro successo Clicca sul link e iscriviti al gruppo Facebook che preferisci Lunedì 7 marzo alle ore 21 potrai partecipare all'evento e capire come far parte della più grande rivoluzione del settore mai vista in Italia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti